Cosa odi di più del Natale? Incartare regali. Tu? La mia famiglia. Come si può entrare nello spirito con voi intorno? Su, ragazzi, lo spirito che vi serve è qui dentro. Coraggio, datemi un amen! Ecco in cosa Turk è imbattibile, nel coinvolgere la gente. Avete sentito, gente, datemi un amen! Amen! È tempo di buone azioni, sapete? Amen! E quale posto migliore per farlo se non qui al sacro cuore? Amen! Se voi davvero mi amate, pascete il mio gregge. Giusto? Ma noi qui, al sacro cuore, non ci limitiamo a pascere il gregge. No, noi daremo loro degli abiti. Giusto! E prima le laveremo. E poi le affetteremo. Le affetteremo! E poi le ricuciremo una ad una! Perché è proprio questo che il Natale significa per tutti noi. Predica, predica, predica! Come si chiama la canzone che canteremo oggi? Oh, grazie, signor! Cantate! Oh, grazie, signor! Grazie, signore! 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 Grande lode al Signore!